E questo che animale è? Si tratta di un insetto, ma non so di quale tipo. È un ingrocio tra un insetto e un bruco. Ma di chi si tratta? Sicuramente sarà una larva di farfalla. Sicuramente si trasformerà. Guardate come muove questo sasso. Di sicuro è in cerca di cibo, ma non mangia formiche. È velocissimo. Perlustra il territorio in modo veloce. Ha due zampe posteriori. E spinge tutto il corpo. Ma di cosa si nutrirà? Di certo mangia cose particolari. Scrutta sotto le pietre. In cerca di piccole larve o microscopici insetti. Che cosa starà cercando sotto questo sasso? Guardate con quale forza si dimena. Ha finito. Di sicuro sta mangiando. Questa è un'altra strana creatura. Un insetto rosso e nero. Sono degli insetti veramente belli. Non li avevo mai notati. La natura fa dei capolavori. Questo è un piccolo capolavoro della natura. Sono molto riservati. Guardate come fanno l'amore. Si stanno consumando il loro rapporto d'amore. Si sono nascosti. Questi si sono proprio imboscati. Nell'erba bassa. Ma quale sarà il maschio dei due? Forse il maschio è quello di destra. E la femmina è quello di sinistra. Sono attaccati. Uno all'altro. Cercano di liberarsi, ma non ci riescono. Sono stremati. Guardate che colori belli che hanno. Adesso cercano di nascondersi. Sono timidi. Si sono nascosti. Alla vista della telecamera si sono nascosti. Beh, lasciamoli stare. Questo solitario si nasconde. Forse cerca un posto per trascorrere la notte. Tre zambe nella parte centrale del corpo. Le ali. Un musetto nero. E' un occhio prominente. E poi è tutto colorato. Rosso e nero. Questa è di sicuro una femmina. Questa forse è un'altra femmina. Guardate che pancia grande che ha. Ma ha questi insetti. Dopo la fecondazione. Depongono le uova. Oppure partoriscono delle larve. Beh, in ogni caso. Anche se non sappiamo la risposta. Sono esseri straordinari. Questo sta cercando un luogo in cui passare la notte. Ecco. Finalmente l'ha trovato. Adesso si aggiusterà per bene. Buonanotte a tutti.